Talion arginò le forze delle tenebre per decenni, ma l'Anello dell'Oscuro Signore aveva una sua volontà. E' finita. Insieme conquisteremo la Terra di Mezzo. Talion infine cedette e si unì ai nove. Negli anni che seguirono, l'unico Anello venne trovato. E il nuovo Nazgul raggiunse la Contea insieme ai fratelli alla ricerca del suo portatore. E poi... Dopo decenni di guerra, le tenebre cedettero il posto alla luce. A una nuova compagnia. E a un eroe improbabile. Arrivò la morte. Morte per Sauron. Per il suo dominio. E morte per Talion. Che uscì dalle tenebre. E trovò la libertà. Dio moraessa? L'autista en messia. Oppure il walere... Ves, SUV. Sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti.